condimento in preparazione pasta allo scoglio perché ci sono vongole pesce spada cioè no vongole scusatemi cozze pesce spada gambero pomodorini buonissimo allora raga io quasi finito mi è rimasto da fare il corridoio e secondo voi che faccio secondo voi lo faccio pure mi devo confondere per il corridoio qui è quasi asciutto maia non fa altro che fare avanti e indietro qui ancora è bagnato ok ragazzi allora dai faccio il corridoio così i pavimenti sono tutti puliti poi ho pulito questo cantone che c'era un bel po di polvere questo e l'ho fatto sempre con quel prodotto nuovo per il legno vedete vedete come va saltando maia vedete come va saltando l'ho fatto con questo anche perché il cantone è sempre di legno anche se non è questo colore è bianco ma sempre legno è comunque l'ho fatto così quindi 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 Grazie.